Buonasera di Eccoci, ben ritrovati in diretta. Abbiamo insomma i ragguagli, gli aggiornamenti chiamateli come volete, sul DEF, sul documento di economia e finanza. Buonasera Alberto Gusmerolli, Vice Presidente della Commissione Bilancio della Camera, che il testo lo ha avuto illustrato da Conte subito dopo la conferenza stampa in cui il Presidente del Consiglio ha spiegato i dettagli della manovra. Buonasera Giuseppe Di Taranto, professore merito alla LUIS, ben ritrovato, ne avevamo parlato due giorni fa, lo rifacciamo oggi con le idee un po' più chiare. Gusmerolli, le chiedo subito, quando ha sentito Conte, rispetto a tutte le cose che si erano dette fino ad oggi, qual è l'elemento di novità, secondo lei, maggiore o di continuità? No, sono tantissime le novità. Intanto la manovra è una manovra coraggiosa, in controtendenza rispetto alle manovre degli anni precedenti e quindi guarda alla crescita. Questo è un aspetto molto importante. Anche se l'Europa è scettica? Guarda la crescita, guardiamo anche quello che è successo negli ultimi X anni, il debito pubblico è sempre aumentato, gli ultimi sette anni 350 miliardi è aumentato e l'Europa non ha detto niente, quindi io direi che il guardare alla crescita è fondamentale. La fermo, perché appunto andiamo a vedere la sintesi sul testo per come lo abbiamo conosciuto, fatto dai colleghi di News Mediaset e poi torniamo ovviamente ad analizzarlo. Sentiremo anche Di Maio che ha parlato, ha insultato, il caso di dire su Facebook, l'analisi del testo. Confermato il deficit al 2,4% nel 2019, il governo ufficializza il ripensamento per i due anni successivi, con il disavanzo che scenderà al 2,1% nel 2020 e all'1,8% nel 2021. Rilanciamo la crescita economica, assicuriamo lo sviluppo sociale, prospettiamo una pubblica amministrazione amica, in particolar modo un fisco amico. In attesa di capire se il giudizio positivo del Premier verrà condiviso dai mercati, è inserata dunque che dal vertice di Palazzo Chigi arriva l'ok sull'aggiornamento del DEF. Il Vice Premier Salvini, confermata la flat tax al 15% per le partite IVA e il superamento della legge Fornero, annuncia un massiccio piano di assunzioni. Per circa 10.000 donne e uomini delle forze dell'ordine per portare più sicurezza nelle strade del Paese. Tocca poi all'altro socio di governo di Maio confermare il reddito di cittadinanza, senza chiarire però le indiscrezioni sul carattere sperimentale che assumerebbe la misura e poi il fondo per le vittime dei crack bancari, sperando che le ambizioni di un efficace taglio agli sprechi possano concretizzarsi. Quindi le agevolazioni per le imprese. Un abbassamento dell'IRES per le aziende che investono e che assumono e più è stabile il contratto più si abbasserà l'IRES. Nonostante le preoccupazioni diffuse sull'indebitamento italiano, il governo è comunque convinto di poter tagliare il debito con un rapporto rispetto al PIL che nel 2021 arriverebbe al 126,5%, più di 4 punti in meno rispetto ad oggi. Arriveremo a dimezzare il gap tra il tasso di crescita italiano e il tasso di crescita europeo nel primo anno della manovra, nel 2019. Aspettiamo di capire meglio e l'orientamento di Confindustria. Dobbiamo vedere quant'è la parte di manovra che riguarda la crescita e quant'è la parte di manovra che riguarda i fini che il governo si è dato con il contratto di governo. Resta lo scetticismo dei vertici europei sulle nostre finanze e ai giudizi negativi, il commissario Moscovici aggiunge un sigillo poco gradito al nostro governo, definito come euroscettico e xenofobo. Moscovici parla a vanvera, taglia corto Salvini. Professore di Taranto, al di là di Moscovici e al netto delle novità presentate in serata dopo il nuovo vertice, qual è il suo giudizio, la sua opinione sul DEF? Positivo il mio giudizio, ma per una questione molto semplice, io non voglio entrare nel merito se sia coraggiosa o meno, è una manovra diversa perché finalmente si punta sulla crescita. Per anni, per anni... Nonostante reddito di cittadinanza... Ci arriviamo, ci arriviamo. Per anni. No, 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 ma si immagina che arriviamo anche a questo. Ma parliamo anche degli investimenti, non soltanto del reddito di cittadinanza. Noi abbiamo avuto questo dibattito tra rigore e crescita. Abbiamo visto che il rigore non ha funzionato, anzi ha danneggiato non soltanto l'Italia, ma tutti i paesi del sud Europa. Adesso, finalmente, con una manovra, ripeto, non la chiamo coraggiosa, la chiamo diversa, noi ci abbiamo sulla crescita. Ora, teniamo presente che i trattati europei non è che parlano di deficit in termini assoluti e di debito in termini assoluti, parlano di rapporto deficit-PIL-debito. Allora, a questo punto è evidente che se noi riusciamo con gli investimenti ad aumentare il PIL, questi rapporti diminuiscono. Diciamo che alla luce delle cose che lei sta dicendo, ne deduco che lei non è preoccupato per la stabilità dell'euro e dell'Europa. Ma non esiste la preoccupazione per la stabilità dell'euro e dell'Europa. La preoccupazione dell'automuscovisi e Juncker, abbiamo sentito... Ecco, la ringrazio di quello che ha detto, perché probabilmente se ci sono persone o esponenti che mettono, come dire, in pericolo la stabilità dell'euro, queste persone non stanno in Italia, stanno a Bruxelles e se parlassero meno eviterebbero di fare salire lo spread che alla fine paghiamo noi. Le posso fare un esempio? Pratico? Sì, velocissimo. Era 23-24 febbraio, Juncker disse che era molto preoccupato per le elezioni in Italia, che come sa sono state il 4 marzo, perché lo spread sarebbe aumentato moltissimo. Non successe assolutamente nulla, assolutamente nulla, però quando ci fu questa dichiarazione la borsa cominciò dal mattino ad andare bene. A questa dichiarazione, guardi, le dico l'orario alle 14.30, dopo della borsa. Poi dopo ci fu una dichiarazione dell'ex premier Gentilene, ritorno alla borsa. Chi paga? Chi paga questi danni al nostro paese? Possiamo dire che però almeno ha avuto coerenza, no? Moscovisi ha continuato a dire e Juncker lo stesso, ha continuato a essere preoccupati allo stesso. Io non credo che sia coerenza, credo che siano offese contro il nostro paese, che sono due cose diverse, perché si può essere coerenti e corretti. In questo modo credo che si sia soltanto non corretti. Campagna elettorale? Lo chiedo a Gusmeroli, che appunto è reduce da questo... Vi siete telefonati o vi siete proprio visti con Conte? Noi abbiamo visto il vice ministro Massimo Bitonci, il sottosegretario Guidesi, che ci ha illustrato i termini almeno principali della manovra, che sono molto interessanti, perché c'è la mini flat tax per le piccole e medie imprese. E anche qui è un cambio di tendenza. Prima pensavano alle banche, ai grandi potentati, qui si pensa alle piccole e medie imprese, sia con la mini flat tax che con la detassazione degli utili rinvestiti, se le rinvesti in macchinari, in ricerca, in assunzioni a tempo indeterminato. Quindi è un vero cambio di rotta. Allora, scrive Lanza nella sintesi del 21, guerra di cifre tra leghe e 5 stelle sulle misure prioritarie. Allora, a proposito di cifre, le prime che abbiamo visto dicono più o meno 10 miliardi per il reddito di cittadinanza, 5 miliardi per la Fornero, che viene ritoccata. Sì, assolutamente. Si può dare raguagli su questo? Beh, allora, intanto c'è la Fornero e... Allora, questo è il primo governo che fa le promesse e le attua. Perché rispetto al passato anche questo è un cambio di tendenza. Prima tutti promettevano, ma qui si parla, si è parlato in capo. Alcuno dice che si è sbilanciato troppo proprio per mantenere le promesse. Beh, però abolizione della legge Fornero è abolizione della legge Fornero. 400 mila persone andranno in pensione e ci sarà la possibilità di assumere giovani. Ricordo che in questo momento noi abbiamo il 10% di disoccupazioni. Siamo appena sotto il 10%. Con queste operazioni sia... L'obiettivo è il 7%, leggo sempre delle buone intenzioni del governo. E ci sono tutti, perché se mettiamo i miliardi di investimenti in manutenzioni di questo Paese che ne ha un grandissimo bisogno, mettiamo la flat tax, mettiamo la detassazione degli utili investiti, sono tutte assunzioni che andranno a buon fine. Gus Marone, la fermo e vado al professor di Taranto e poi sentiamo Di Maio. Dicono però quelli delle opposizioni, dicono quelli che temono reazioni dai mercati, mercati che hanno e lo spread, in realtà sono andati un po' su e giù. Attenzione perché questa in realtà è una manovra che ci impoverirà sul lungo periodo, che farà saltare il banco di questo Paese, perché a differenza del vostro ottimismo, dicono appunto quelli che invece non la pensano come il governo, il professor di Taranto, quelli che non la pensano come il governo invece sono molto preoccupati. Queste preoccupazioni, che erano per la verità di ieri, adesso ci sono queste modifiche, non hanno proprio nessun fondamento? Domanda. Guardi, non è che non hanno fondamento, ma noi abbiamo perso in dieci anni il 30% degli investimenti. Gli investimenti sono una cosa fondamentale, perché hanno un effetto moltiplicativo sulla ricchezza, sul PIL, e il PIL poi ha un effetto espansivo sull'occupazione. Se questo piano di 15 miliardi verrà attuato in modo corretto, cosa intendo in modo corretto? Cioè attraverso investimenti che hanno un alto moltiplicatore, soprattutto in infrastrutture tecnologiche, il famoso denominatore aumenterà molto. È ovvio che a questo punto i due rapporti diminuiranno. Altra domanda, è stato detto fino a pochi minuti fa, prima appunto che ci fosse la conferenza, dopo l'ennesimo vertice, l'Europa boccerà questa manovra come la bocceranno i mercati. Alla luce delle novità di questa sera, pensa invece che questa bocciatura sia meno scontata? E poi lo chiedo anche a Gusmerolio. Guardi, se l'Europa boccerà questa manovra, significherà che se l'euro salta, non sarà colpa dell'Italia, ma sarà colpa dell'Europa. Mi lasci dare un dato interessante, il trattato di Maastricht è stato violato fino a fine 2017, sa quante volte? 165. Ma quando erano la Francia a sforare il 3%, la Germania mai sanzionate, il surplus tedesco mai sanzionato, dov'era la Commissione europea? Lei pensa, Gusmeroli, che con le novità di questa sera Moscovici e Juncker cambieranno opinione, oppure continuerà questa divergenza e anche ostilità aperta? Io mi auguro che cessi, perché come ha detto giustamente il professore, tutto questo parlare poi infastidisce i mercati. In questo momento c'è una manovra chiara, una manovra che guarda la crescita sugli investimenti. Ricordiamoci questo, che quando lo Stato investe 15 miliardi, il 20%, il 22% gli torna indietro di IVA solo non facendo niente, solo facendo fare investimenti. E questo è molto importante, più tutte le imprese che lavorano, l'occupazione di quelle imprese. Quindi questo è veramente un cambio di passo completo rispetto al passato. Almeno nelle intenzioni, naturalmente poi le manovre vanno misurate con i fatti, con quello che produrranno nella realtà e con le reazioni dei mercati. Ricordiamo che al di là delle reazioni dei mercati e dello spread è atteso il giudizio delle agenzie di rating sul nostro Paese e quello sarà un indicatore di fiducia o sfiducia appunto del mondo economico internazionale nei nostri confronti, arriverà a giorni. Prima però, è nell'attesa, sentiamo Di Maio, il vice premier, poco fa su Facebook. Da Palazzo Chigi abbiamo appena finito la conferenza stampa sulla nota di aggiornamento al DEF, la cosiddetta manovra del popolo che abbiamo definitivamente inviato alle Camere e a Bruxelles e in cui ci siete tutti voi. Abbiamo mantenuto le promesse, in questa manovra ci sarà il reddito di cittadinanza, ci sarà la pensione di cittadinanza, ci saranno i rimborsi ai truffati delle banche che non abbiamo mai dimenticato, ci sarà un abbassamento delle tasse sull'IRES per tutte le imprese che assumono e più assumono con contratti stabili, più c'è lo sconto e per tutte le aziende che fanno investimenti. Ci sono aiuti alle partite IVA, soprattutto ai giovani che hanno le partite IVA, che pagheranno solo il 15% di tasse, c'è l'IRES verde, meno inquini meno paghi, c'è tutta la storia del Movimento 5 Stelle. E vi dico la verità, stasera porto i parlamentari a festeggiare, perché stasera dobbiamo festeggiare. È una grande manovra quella che abbiamo ottenuto, 10 miliardi per il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza, sono 9 più 1 per i centri per l'impiego, ogni anno per tre anni, che è la programmazione triennale che fa la legge di bilancio, ci sono un miliardo e mezzo per rimborsare i truffati delle banche, ci sono i soldi per abbassare le tasse alle imprese e ci sono anche un po' di tagli. Per esempio uno dei settori a cui tagliamo un po' di agevolazioni è quello delle banche, che ne ha avute fin troppo in questi anni, fin troppe agevolazioni, e adesso comincia ad avere un po' di meno. Eccoci qua, ecco questo era Di Maio, vicepremier Di Maio, ministro del lavoro, che esprimeva tutta la sua ovvia soddisfazione per come il testo è stato definito. Questo è naturalmente il punto di vista di chi l'ha fatto, del governo e della maggioranza. la CGL. Ezio Cigna, cosa pensa della manovra, come è stata illustrata in questi minuti? Insomma, voi dal punto di vista dei lavoratori e dei pensionati, come vi definite in questi minuti? Buonasera. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Diciamo che sicuramente le iniziative proposte dal governo, l'elenco che il ministro faceva poc'anzi, è una serie di iniziative che vanno nella direzione che noi ospitavamo. è evidente che per dare e per pesare realmente che cosa metteranno in campo bisogna vedere il documento e bisogna entrare nel merito di ogni iniziativa che viene messa in campo. Ad esempio sulla Previdenza si dice che viene smontata la Fornero, in realtà viene introdotto un meccanismo probabilmente nuovo, perché non abbiamo ancora visto nel dettaglio la proposta, che ci sarà una flessibilità in uscita che permetterà ad alcuni lavoratori, non a tutti, di andare in pensione con almeno 62,38. E su questo credo che sia il limite, nel senso che in realtà, oltre a quello che abbiamo visto sui giornali, noi non riusciamo a dare un dettaglio e un valore a quello che verrà fatto, proprio perché in realtà la manovra nel dettaglio non si conosce. Poi anche Gusmeroli, insomma, di Taranto, ma quando il testo sarà pronto e definito, insomma, la conferenza stampa è stata pochi minuti fa, tutti noi moriamo dalla voglia, insomma, di leggere la sua interezza. Lei ha ragione, Cigna, fino a quando non avremo i dettagli sarà difficile per tutti poterne parlare compiutamente. Ma sulla base delle cose che stanno emergendo in queste ore e in questi minuti, sul reddito di cittadinanza, ad esempio, che è stato uno dei punti più controversi, la Cigelle che punto di vista e posizione ha? Ma allora, intanto, quando parliamo di reddito di cittadinanza, tengo insieme anche all'ipotesi che è in campo e che sarà sicuramente nella manovra che la pensi in cittadinanza. Quindi, da una parte, come si può dire, che dare a un soggetto, a una famiglia che in condizioni disagiate un reddito per vivere non sia una cosa corretta e credo che vada nella direzione anche della pregettiva legislatura, che aveva introdotto il REI. Altra cosa è immaginare, ad esempio, sulle pensioni che, a prescindere dalla contribuzione versata, io do a qualcuno 780 Euro, perché in realtà il meccanismo non reggerebbe più. Non solo da una parte scasserei i conti, ma in realtà viene meno il pilastro pubblico. Cioè, oggi perché un giovane dovrebbe versare contribuzione se io do una garanzia di una pensione a 780 Euro che forse oggi, nel sistema che arriverà, cioè quello contributivo, quello che pensionerà nel futuro, a 780 Euro pochi arriveranno ad avere una pensione. Certo, questo è il lato oscuro del provvedimento. Era stato già inizio. E questo è un tema sicuramente che vale la pena vedere come è stato affrontato. Puoi dire che le pensioni minime dovevano essere alzate e ovviamente risponde a una richiesta che il sindacato fa da anni. Ultima domanda, veloce risposta, perché il tempo ce lo siamo mangiati, ma insomma con molti elementi di conoscenza che si stanno via via svelando in questi minuti, riguarda l'obiettivo della disoccupazione al 7%, un obiettivo credibile, sempre sulla base delle informazioni ancora incomplete che tutti noi abbiamo. È un grande obiettivo e sarebbe un ottimo risultato. Certo che un governo che ha l'ambizione di arrivare a quel numero credo che possa trovare nel sindacato una sponda ideale per aprire dei tavoli di concertazione e per fare delle cose che questo Paese oggi ha bisogno, in particolare per i giovani. Grazie Cigna e buon lavoro. Insomma abbiamo sentito il più grande sindacato italiano, la CGL, prudente, no? Insomma bisogna dirlo. Ovviamente non c'è ancora il testo definito, insomma non c'erano neanche Gusmeroli, ci sono le linee principali, c'è la cornice. Però ben definita, ben chiara. Sì però la sostanza poi è importante in questo senso, può spostare tanti valori, giusto professore? Sì, aspettiamo il testo questo sicuramente, però mi faccio a dire una cosa, che alla fine il giudizio che abbiamo sentito è un giudizio positivo, sulle promesse, ovviamente, sulle buone intenzioni. E a proposito di buone intenzioni, diceva Cigna, attenzione perché ad esempio l'edito di cittadinanza ha quest'altra faccia, che riguarda i contributi che dovranno versare, che serviranno alle pensioni di domani, i giovani che dovranno entrare nel mondo del lavoro, che fino ad oggi hanno avuto grandi difficoltà. Non ci si può dimenticare che c'è 6 milioni e mezzo di persone, di poveri, non ci si può dimenticare, quindi questo è importantissimo. Ricordiamoci anche che c'è un collegamento a un servizio sociale che deve essere fatto, un servizio civile, per esempio i controlli che ci saranno anche, lo strumento sarà quello tipico delle borse lavoro, dove sostanzialmente prendi un reddito di cittadinanza, ma contribuisci anche alla crescita della società. Professore, due giorni fa, quando la prima bozza di testo è stata portata a Bruxelles, e Tria è stato investito da critiche, sia in Europa che anche in Italia, da parte sostanzialmente di tutti gli organi di stampa, e non solo si è evocato il rischio Venezuela per il nostro paese. Stasera lei è leggermente più tranquillo? O quel rischio c'è sempre, fino a quando non vedremo poi i fatti e come realmente si può tradurre? Sarò molto chiaro, quel rischio è una grande sciocchezza, e se si evitasse di dire queste sciocchezze, lo spread non salirebbe. Tra l'altro teniamo presente che lo spread è salito poco, non è che si è arrivato a 20... Ha sporato quota 300 e non accadeva da tempo. Sì, ma oggi è riuscito. Oggi è 2,83. Oggi è riuscito, non dimentichiamo che arrivò, e non per colpa dell'Italio di Berlusconi, questo lo voglio chiarire, a 5,75. Questo non lo dimentichiamo. Mi faccio dare un'altra notizia interessante. Durante il governo Berlusconi, lo spread salì oltre 500 solo 4 volte. Nel governo Monti è salito 14 volte. Credo che questa sia una notizia interessante. Una storia da riscrivere, ma quello insomma lo si è capito ormai. Gusmeroli, domattina che si aspetta dai mercati però? Io penso positività. Positività perché lo si sta sentendo. Abbiamo sentito la CGL. Quello che domani vedremo in borsa e con lo spread ci dirà se il vostro entusiasmo è fondato o no. Pochi giorni fa la Confindustria ha fatto un'apertura. Oggi molto più prudente però. Sì, però il fatto di occuparsi delle piccole e medie imprese è importantissimo. È un cambio di passo notevole. In quei provvedimenti fiscali c'è il cedolare secca sulle locazioni commerciali, che è un aspetto altrettanto importante. Ricordiamoci che l'accedolare secca sulle affitti abitativi è stata la prima flat tax che si è autofinanziata, dove a fronte del pagamento dell'accedolare secca ha emerso tutto il nero. E quindi anche quello è un aspetto. C'è in corso il progetto di legge sulle semplificazioni. Quindi meno burocrazia e più tempo da dedicare al lavoro. Cioè questo governo veramente vuole fare. È veramente un cambio di passo. Ecco, il governo vuole fare. È un cambio di passo. Questo è naturalmente il punto di vista del governo e di chi lo sostiene, la Lega e il Movimento 5 Stelle. Professore Di Taranto, lei invece è un osservatore neutro, è un professore merito, è uno studioso. Ecco, abbiamo visto tanti elementi. Naturalmente sono buone intenzioni, sono tutti elementi da verificare poi sulla carta e nei fatti. Però, come abbiamo detto fin dall'inizio, e lo ripetiamo in conclusione, lei domattina, quando accenderà la radio o la televisione per sentire le notizie, che cosa si aspetta, così come previsione? Non mi aspetto nulla di nuovo. Lo spread ad occhio e croce, secondo me, resterà su questi livelli, che non è un livello pericoloso. E ricordiamo sempre, il nostro debito pubblico è un debito sostenibile. Chi dice il contrario lo fa soltanto per colpire il nostro paese. Ultima domanda, velocissima, ma quando finirà il quantità di draghi? Non ne avevamo parlato, ma è lì, sta per finire. Le cose cambieranno? Per il 2019 no, perché la BCE continuerà comunque a finanziare i vari paesi alla scadenza dei titoli. Userà quei soldi che sono in scadenza dei titoli per inclinare a finanziare. Quindi diciamo che per un altro anno, non solo noi, ma dovremmo essere tutti tranquilli. Mi permette solo per un secondo? A proposito dell'Italia, non ci dimentichiamo che noi siamo contributori netti del Fondo Salva Stati. Significa semplicemente che siamo noi che abbiamo salvato Spagna, Grecia e altri paesi insieme a Germania, Francia. Grazie, professor Di Tanto. Gusmeroli, lei torna al lavoro già da stasera o a domani cominciate l'analisi vera del test? No, no, da stasera siamo assolutamente... Quindi lascia noi, va... Sì, sì, ma siamo tutti così. I deputati senatori della Lega sono tutti sul pedo. E allora grazie di questa breve interruzione. Buon lavoro, buona serata. Noi proseguiamo naturalmente. Andando negli Stati Uniti, negli Stati Uniti ne succedono di cose. Lo sapete, ce le racconta giorno per giorno Maria Luisa Rossi Hawkins. Poi torna Laura Caschera, avremo tutti gli aggiornamenti delle notizie e poi la rassegna stampo. Un'altra serata di informazione a tambur battente su TG24. State con noi.